Sono tutti contenti, si vede che il ballo è piaciuto. Ah, e deve ancora arrivare il meglio. Suggerisci il prossimo. Qualcosa di ok, un classico, dolce e divertente. Sei forte, Ghidi. Dai tu l'attacco. E il pubblico è indelirio, ogni pezzo è un successo. Eh sì, siamo come una gallina dalle uova d'oro. Sì, io le preferisco di cioccolato. Sei il solito golosone. Però ha ragione. Che acquolina. Che bontà. Sarà, ma a tempi alla carie bisogna sapersi limitare. Accidenti, hai dato il meglio di te stessa. Cerco di accontentare il pubblico. Che a volte chiede la Luna. E noi gliela diamo. E ora, un pezzo leggendario. Sì, spaziale. Sei la nostra stella. Testi, non senti anche tu una puzza bestiale? Già, c'è qualcuno che è in guerra col sapore. Io so chi è, vediamo chi indovina. Io direi che ha due baffi e quattro zampe. È impossibile sbagliare. Ha denti gialli. E i piedi neri. Uno talmente fetentone che gli hanno fatto una cazzone. Ragazzi, vogliamo continuare? Forse con una bella romanza. Io propongo qualcosa di molto allegro. Sì, sì, sono d'accordo. Sassi, vai! Drami, con le bacchette sei un'aquila. Oh, beh, mi piace un sacco. A me sembra piuttosto una cornacchia col singhiozzo. Drami, non starei ad ascoltarlo. È un vero orso. Vado, ragazzi. Non faccio certo il coniglio. Ehi, amici, facciamo una tournée al Polo Nord. Oh, lì, fa freddo. Geleremo. Ah, sento già i brividi. Io comunque ho un bel cappotto. Tasty, mi hai dato un'idea? Sì, anche a me. Allora, che cosa si fa? Eh, possiamo riscaldarci con il ballo delle civette. Se andiamo avanti così, su di noi scriveranno un libro. Beh, non ce n'è bisogno. Di libri, è pieno il mondo. Leggere il mitico Sassi. Un libro fa sognare ad occhi aperti. Lo apri e comincia l'avventura. Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo. Di un orango? Di un topolino? Basta, diccelo tu. La conoscete? La storia di Noè? Certo, quella del diluvio universale. Già, c'è anche una canzone. Sì, la suoniamo? Ma sì, do io l'attacco. Pronti? E ora cambiamo genere. Facciamo un pezzo esotico. Sì, dai, qualcosa di caldo. Ne ho in mente uno su un milo. Quello mi piace, sì. Sì, d'accordo. Ha un ritmo niente male. Sì, parte. Venite tutti dietro a me. Ehi, Itty. Hai già in mente qualche idea? Ricordate quella storia sul romarro? Oh, sì. Davvero divertente. Una cosa pazzesca. Beh, allora, perché noi la cantiamo? Sì, geniale. L'hai pensato bella? Ehi io. Bana. Bana. Grazie a tutti.